Abbiamo voluto interpellare per promuovere la cultura di un nuovo tipo di giardino definito terapeutico per poter favorire il benessere delle persone, sia con problemi, diciamo patologie particolari e anche con persone del tutto normali. Il verde genera benessere e quanto è stato presentato in un'attività sperimentale è promossa dalla Fondazione Architettura di Treviso Giardinieri Operatori del Verde di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana per sottolineare il connubio che esiste tra spazio verde e la cura di alcune patologie. Per persone con disturbi cognitivi è un miglioramento dello stato di salute e di vita quindi le persone che vivono in questi spazi verdi, che frequentano questi spazi verdi migliorano le proprie condizioni di salute da un punto di vista proprio dello stato di ansia, di depressione in cui cadono per esempio malati di Alzheimer o persone con disturbi psichiatrici o persone affette dal disturbo dello spettro autistico. Il verde che influisce al cambiamento dello stato di vita. Chi esce da condizioni di dipendenza e trova nuovi stimoli per iniziare una nuova vita dove lo spazio verde gioca un ruolo fondamentale. Per esempio per i malati di Alzheimer frequentando i giardini dedicati a loro ci sono dei miglioramenti proprio nello stato di salute. Abbiamo fatto una sperimentazione che ci ha portato a rilevare dei dati scientifici che hanno portato a una riduzione tra il 20 e il 30% dei medicinali ansiolitici. Ma ci sono delle piante specifiche per i malati di Alzheimer per esempio? Tutte quelle piante che riportano alla memoria del paziente a una memoria a lungo termine i momenti migliori della loro vita.